Fa tirare un sospiro di sollievo, il primo pronto risultato delle indagini avviate dalla questura di Bari sulla natura della deflagrazione avvenuta ieri mattina presso il commiserato di pubblica sicurezza di Andria. L'esito rassicurante consente di riaffermare con fiducia l'impegno a sostegno dei principi di legalità e sicurezza pubblica delle nostre comunità, così il sindaco Nicola Giorgino. Sino al tardo pomeriggio di ieri l'ipotesi prevalente è stata quella di un attentato, anche se la matrice era difficile da individuare sulla dinamica, rimanevano diversi punti interrogativi. Un'esplosione verso le 11.35 di ieri al piano terra del commissariato ha fatto tornare indietro la memoria a due precedenti atti intimidatori di alcuni anni fa. Invece, dagli accertamenti della polizia è emerso che la deflagrazione, che ha provocato due feriti lievi, è stata causata da un reperto sequestrato e custodito nei locali del commissariato consistente in un barattolo di conserva di pomodoro con all'interno sali e zucchero. L'esplosione si è verificata nell'androne del commissariato al piano terra, in prossimità dell'ingresso, subito dopo che un addetto alle pulizie, uno dei due feriti, aveva appoggiato sul pavimento un bustone di rifiuti in cui aveva riversato quelli più piccoli raccolti negli uffici. La deflagrazione ha provocato anche danni, mandato in frantumi alcuni vetri e buttando giù una parete di cartongesso che divede due ambienti. L'addetto alle pulizie è stato ricoverato all'ospedale di Barletta con una prognosi di 20 giorni per ipoacusia neurosensoriale, ustioni alla gamba e al piede sinistro ed abrasioni agli arti. Anche un dipendente della polizia municipale di Andria, presente al momento dei fatti negli uffici del commissariato, è rimasto lievemente coinvolto nell'esplosione, riportando contusioni guaribili in cinque giorni. Il reperto che ha causato l'esplosione, ha spiegato la questura di Bari in una nota al termine degli accertamenti, ha subito una modificazione chimica causata dall'ossidazione a contatto con il metallo dell'involucro, tale da trasformare i sali in picrato di ammonio, materiale esplodente sensibile ad urti e sfregamenti. Il manufatto, custodito all'interno dell'ufficio reperti, era destinato alla distruzione. Resta da chiarire come mai il materiale repertato si trovasse all'interno del sacco dei rifiuti trasportato dall'addetto alle pulizie rimasto ferito. L'episodio aveva indotto nel corso della giornata reazioni preoccupate, soprattutto dal mondo politico, a cominciare dal primo cittadino Nicola Giorgino, poi in serata l'esito degli accertamenti, che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo pur nella singolarità dell'episodio.